Musica Grazie all'invito di Rubettino e ho avuto il piacere e l'onore di essere qui a Soveria Mannella per presentare questo libro che vuole essere un messaggio di positività, un messaggio di certezza un messaggio di far capire che in questa terra che amiamo e che possiamo risollevarla dipende solo da noi cercando di dare un esempio di crescita, quindi ogni cittadino deve essere responsabile delle proprie azioni con la consapevolezza che si può fare, perché l'ho fatto io e lo può fare chiunque Grazie a tutti!